Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi lezione dedicata all'Orlando Furioso. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come diario di Charlotte. L'Orlando Furioso è il grande capolavoro di Ludovico Ariosto, al quale abbiamo dedicato una video-lezione che vi lascio qui. Ariosto ci dedicherà 30 anni alla scrittura dell'Orlando Furioso, tant'è che l'inizio dei lavori è nel 1502, come testimoniato dalla lettera a Isabella d'Este. Infatti nel 1507 lui stesso scrive alla Marchesa di voler realizzare un romanzo che sia un'aggiunta dell'innamorato. A proposito dell'Orlando innamorato vi lascio qui la video-lezione dedicata a Matteo Maria Boiardo e al suo Orlando innamorato. Come dicevo l'Orlando Furioso è il capolavoro di Ludovico Ariosto, un capolavoro a cui dedica un trentennio che pubblicherà nel 1516 in una prima edizione di 40 canti, che poi rimaneggerà dal punto di vista linguistico nel 21 e che pubblicherà in seguito nel 1532, l'ultima edizione di 46 canti. Qual è l'opinione però di Machiavelli quando legge l'Orlando Furioso? Bello tutto e mirabile anche in vari aspetti. Nell'ultima edizione però Ariosto aggiungerà anche 4 episodi in più, come vi dicevo 6 canti, e cercherà anche di classicizzare dal punto di vista linguistico l'opera. Quali sono i modelli di Ariosto? Beh, naturalmente le Tre Corone Fiorentino, Toscane che dir si voglia, Dante Petrarca e Boccaccio, ma anche Poliziano e Pulci. Anche a Pulci abbiamo dedicato un video che vi lascio qui. Cercherà di toscanizzare la lingua seguendo il canone delle prose della volgare lingua di Pietro Bembo del 1525. Infatti il Furioso contribuirà all'unificazione linguistica nazionale. Le fonti sono gli autori latini, quindi la materia classica, il ciclo bretone, il ciclo carolingio, ma anche i cantari e la poesia cavalleresca. Come nell'Innamorato, anche qui abbiamo un progetto encomiastico, quindi di elogio di fatto. L'elogio in questo caso, un intento quindi celebrativo, è quello di celebrare la famiglia degli Este. E il titolo L'Orlando Furioso è un omaggio all'Orlando Innamorato di Boiardo, ma soprattutto a Seneca. L'Orlando Furioso è in ottave, quindi una forma poetica tipica del Trecento, in particolare tipica dei cantari, ed è formata da strofe di otto e neca sillabi rimati, a b a b a b c c. Ecco, vedete qui un esempio di ottava con la rima a b a b a b a b c c. L'opera è dedicata a Ippolito d'Este, all'Hercule a Prole, l'ornamento splendor del secolo nostro, Ippolito, e anche qui troviamo nella dedica il riferimento celebrativo encomiastico, in quanto dice Per quanto riguarda la struttura del poema, possiamo dire che non ha una trama lineare, né un unico protagonista, ogni cavaliere ha una storia interrotta, ripresa, parallela ad altre. Infatti, questo metodo narrativo non lo ha inventato Ariosto, ma è un metodo narrativo dell'intreccio di fatto, che è stato inaugurato da Chrétien de Troyes, autore che si studia di solito in filologia romanza, quindi si intrecciano nella narrazione varie storie che hanno protagonisti i cavalieri. Troviamo quindi tre linee dell'intreccio, da una parte la guerra tra i cristiani guidati da Carlo Magno e i saraceni di Agramante, dall'altra l'amore di Orlando per Angelica, dall'altra ancora l'amore tra Ruggero e Bradamante. Si parla di una vera e propria chet, infatti nei romanzi del ciclo carolingio il centro ideologico è la guerra santa, come vedete qui però, oltre all'elemento della guerra emerge anche la chet, di fatto, quindi una ricerca dell'oggetto desiderato. In questo caso, questa ricerca è tipica non dei romanzi del ciclo carolingio, ma quelli del ciclo bretone. E l'Orlando Furioso è un romanzo caratterizzato proprio da questa ricerca continua, da questa ricerca ariostesca, tant'è che lo stesso Calvino dice che l'Orlando sia il poema del movimento. Qual è l'antefatto? Carlo Magno, per sedare i conflitti tra Orlando e Ranaldo, che litigano per Angelica, ha deciso di affidare Angelica al duca Namo di Baviera. Inizia così quindi il proemio. Le donne, i cavalieri, l'arma, gli amori, le cortesie, l'audaci, imprese, io canto, che furò al tempo che passarono i mori d'Africa al mare e in Francia noquertanto, seguendo l'ira e i giovenil furori da Gramante e l'orre, che si dievanto di vendicare la morte di Troiano, sopra e Carlo, imperatore romano. Quindi l'argomento ce lo dice subito il nostro ariosto, ovvero le donne, i cavalieri, le battaglie e gli amori. Inoltre la sua invocazione non è un'invocazione alle muse, ma alla donna amata. Come dicevamo, nel proemio troviamo anche la dedica a Ippolito d'Este. Il primo canto dell'Orlando furioso inizia con la fuga di Angelica, la quale è inseguita da Rinaldo, da Ferraù e da Sacripante. Prendo io, Rinaldo, l'ira mi distrugge a seguitare Angelica, che fugge per lochi inabitati, ermi e selvaggi. Angelica, che era stata affidata da Carnomagno al duca Namo di Baviera, riesce però poi a liberarsi e nella foresta, durante la fuga, cavalca Baiardo, il cavallo di Rinaldo. Nel frattempo, Bradamante riesce a liberare Ruggero dagli incanti del mago Atlante. Infatti, Atlante, nel suo castello, fatto d'acciaio e situato sui Pirenei, aveva imprigionato proprio tutti i migliori paladini. Nonostante però Bradamante riesca a liberare il suo amato Ruggero, Atlante fa rapire il cavaliere da un ipogrifo, quindi questo animale mitologico, che ha una testa d'aquila, delle zampe di cavallo e delle ali piumate. Ruggero viene quindi trasportato sull'isola della maga Alcina e viene sedotto dai suoi sortilegi. Però, grazie all'intervento di Logistilla, riuscirà a fuggire. Ruggero, in stella al suo ipogrifo, riuscirà ad arrivare in tempo per salvare Angelica, che, scappata dal duca Namo di Baviera, era stata poi protagonista di una serie di rocambolesche avventure ed era addirittura stata catturata da dei pirati e trasportata in un'isola. Angelica stava per essere mangiata da un'orca assassina, ma riesce Ruggero ad intervenire e a stordire l'orca con il suo scudo abbagliante. Atlante, però, riesce nuovamente a catturare i paladini e quindi li porta in un secondo castello, questa volta un castello pieno di illusioni e di ossessioni, che non permette ai paladini di intervenire e di liberarsi. Soltanto l'anello magico di Angelica riuscirà a spezzare l'incantesimo, in quanto le ha donato l'invisibilità ed è riuscita ad intervenire. Nel frattempo, la guerra continua. A Gramante, infatti, guida l'esercito saraceno all'assalto di Parigi, perché approfitta dell'assenza dei paladini di Carlo Magno, che sono stati catturati e ricatturati dal mago Atlante più e più volte. Io, di Troian Figliolo, al Santo Imperio lancio la mia sfida e con me tutta l'Africa si vanta. Quindi sono Garoni e paladini, re, luci, cavaliere. A Gramante riesce quindi ad avere la meglio sull'esercito cristiano, grazie a Rodomonte, il re dell'Africa, a Marsilio, il re di Spagna e anche a Mandricardo, un re della Mongolia, quindi un re tartaro e i suoi alleati. All'interno di questo intreccio compare anche un episodio che viene spesso ricordato anche perché è una ripresa del modello virgiliano di Eurialo e Niso, ovvero l'episodio di Cloridano e Medoro, due guerrieri saraceni che avevano perso in battaglia il loro re e che di notte avevano cercato di recuperarne il corpo. Medoro però viene scoperto e quindi resta gravemente ferito. Proprio sul campo di battaglia, Angelica, che era riuscita, come sappiamo, a liberare se stessa ma anche gli altri dal secondo castello di Atlante, incontra Medoro e lo trova gravemente ferito. Se ne innamora perdutamente e si occupa delle sue cure. I due si sposeranno nella casa di un pastore e poi cercheranno di raggiungere il Catai, Catai ovvero la Cina, in quanto sappiamo che Angelica era la principessa del Cataio, quindi della Cina. Orlando nel frattempo continua la sua guerra, quindi si batte contro il saraceno Mandricardo, che però scappa nel bosco. Allora anche lui lo insegue nel bosco e nel bosco trova che cosa? Trova le insegne e scopre quindi le scritte amorose di Angelica e Medoro. Angelica e Medoro con cento nodi legati insieme e in cento lochi vede, quante letter son, tanti son chiodi con quali amore il cor gli punge e fiede. Va col pensier cercando in mille modi non creder quel che al suo dispetto crede, che altra Angelica sia credersi sforza, che abbia scritto il suo nome in quella scorza. E invece no, è proprio Angelica ad aver scritto queste parole d'amore e Orlando impazzisce di gelosia. La gelosia non inquina solo Orlando, ma anche il rapporto tra Ruggiero e Bradamante, che sospetta che lui la stia tradendo con una guerriera saracena, Marfisa. Tuttavia, dopo molti duelli, Bradamante scoprirà che Marfisa in realtà è soltanto la sorella di Ruggiero. Orlando, come dicevamo, è impazzito, come vediamo negli ultimi canti. Impazzito forse per la volontà di Dio, che lo ha punito in quanto ama una pagana. Ricordiamo che Angelica è la principessa del Cataio, quindi della Cina. Orlando gittò l'arme, squarciò i panni, pastori uccise e fe mille altri danni. Ma come fare a recuperare il senno di Orlando, che è impazzito? Beh, ci penserà Stolfo, che in sella al suo epogrifo andrà fino alla luna, la luna che ospita tutte le cose perse, anche il senno, e quindi riuscirà a recuperare in una piccola ampolla il senno d'Orlando. Era come un liquore sottile e molle, atto a esalar. Se non si tiene ben chiuso, si vedea raccolto in varie ampolle. Qual più, qual meno incapace, atta a quell'uso. Quella è maggior di tutte, in che del folle signor Tunglante era il senno infuso, e fu dall'altra conosciuta quando aveva scritto di fuori, Senno d'Orlando. Come vedete questa scena iconica è presente anche ormai in tutta la letteratura, anche negli stessi fumetti. Vedete bene, dovrebbe essere qui attorno. Cerca bene, ipogrifo, il senno di qualcuno. Si trova proprio sulla luna. Dopo aver quindi recuperato l'ampolla contenente il senno d'Orlando, Astolfo la fa odorare a Orlando, che finalmente torna in sé. Si intracciano qui altri amori secondari, come quello tra Zerbino e Isabella, quello tra Brandimarte e Fior di Ligi, ma possiamo dire che ora Orlando è rinsavito, e quindi attacca il regno di Agramante e lo costringe ad abbandonare Parigi. Caduta anche Biserta, capitale del regno d'Africa, le sorti della guerra sono affidate a una sfida tra i tre migliori guerrieri mori, Agramante, Gradasso e Sobrino, e tra i campioni cristiani, Orlando, Brandimarte e Oliviero. Orlando riuscirà a sbaragliare i nemici e ad assicurare la vittoria a reccarlo, proprio sull'isola di Lampedusa. Anche se le ostilità sono concluse, tuttavia non è finita per Bradamante, che è stata promessa a Leone di Bisanzio, il figlio di Costantino ed erede dell'impero romano d'Oriente. Dopo però un duello tra Bradamante e Ruggero, che combatte sotto mentite spoglie, Leone rinuncerà a lei. Nell'ultimo canto troviamo quindi la conversione di Ruggero e il matrimonio tra lui e Bradamante, dalla cui unione avrà origine la casa degli Este. Tuttavia la festa verrà interrotta, arriverà a Rodomonte un guerriero saraceno che sfiderà a duello Ruggero e che verrà ucciso. Proprio con la morte di Rodomonte si conclude il poema. Il cui scopo qual è? È quello di intrattenere il pubblico e anche costruire un'allegoria dell'uomo che passa la vita ad inseguire i suoi desideri e che è scisso tra la follia e la saggezza. Noi uomini siamo sempre infatti insoddisfatti, un po' come di Rush Open Hour che siamo pieni pieni di desideri continui che non riusciamo mai a soddisfare, ma alla follia del desiderio si oppone la saggezza, quindi la rinuncia e l'autocontrollo. E qual è l'obiettivo di Ariosto? Vuole smascherare le false certezze della vita e denunciare gli inganni dell'umanità con un atteggiamento distaccato e dissacrante, quindi mette a nudo i limiti e le contraddizioni dell'agire umano. Secondo Benedetto Croce, si direbbe simile l'occhio di Ariosto a quello di Dio che guarda al muoversi della creazione, di tutta la creazione, amandola alla pari nel bene e nel male, perché l'ha fatta lui. Infatti Ariosto è sia un demiurgo, ma anche un innamorato, perché negli esordi dei canti riflette, giudica, ma nel corso della narrazione osserva, commenta. Si mette anche lui un po' in scena come un personaggio e partecipa all'innamoramento e alla follia di Orlando. Ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!